Presidente, guardi, ci tolga una curiosità. Qual è la differenza tra l'ONOV e i sommelier? La domanda è molto importante, mi permette di dare una spiegazione che credo sia rilevante. Intanto diciamo che tra le associazioni della sommellerie e dell'assaggio italiano c'è una bellissima comunione di intenti recentemente. È nata una nuova consulta, si chiama Consulta del Vino Italiano, che ci ha permesso di dibattere, di strutturare i nostri tipi di relazione e di lavorare con dei progetti comuni. Dal punto di vista operativo le due associazioni sono associazioni legalmente riconosciute dallo Stato italiano. Noi ci occupiamo principalmente di assaggio tecnico, quindi affrontiamo il problema del vino del bicchiere, lo affrontiamo dal punto di vista post-universitario, dal punto di vista del consumatore, nel rapporto al vino di qualità e meno ci occupiamo dell'aspetto divulgativo dal punto di vista della ristorazione, quindi del suo rapporto di abbinamento cibo-vino o della preparazione, per esempio, del rapporto di servizio all'interno della ristorazione. In occasione del Vin Italy di quest'anno 2016 è stata presentata la nuova rivista dell'ONAV. Sì, abbiamo voluto un po' contro il senso del mondo, il mondo va verso ciò che non è più cartaceo, noi invece abbiamo voluto rientrare nel mondo della carta stampata con anche, devo dire, molte ambizioni. Abbiamo voluto scegliere un grande direttore, Daniele Cernilli, forse è il numero uno della carta stampata enologica italiana. Abbiamo scelto una redazione di grandi professionisti e abbiamo lanciato un nuovo assaggiatore che vuole essere una rivista legata ai nostri associati, ma non soltanto tecnica, ma anche legata alla croccante notizia. Non dico al gossip, ma ciò che diventa croccante e importante in notizia quotidiana e devo dire che con una tiratura di circa 11.000 coppie si pone tra le prime riviste nel settore e con grande soddisfazione nell'apprezzamento dei nostri utenti.